Qui abbiamo Dani Alves che ha una dichiarazione da fare vero che vai via dalla Juventus Sì amici mi sono stufato e non torno in Brasile ma rimango qui in Italia ho ricevuto una proposta molto interessante dalla Brugnese e la 100 Brasilanci Ciao amici non capisci bene ma così amici tanti gol Ciao ciao Daniele tanti gol per la Brugnesi